Salve a tutti youtubers, Filippo Fiorenza qui Salve a tutti youtubers, il vostro Filippo Fiorenza qui con una nuova recensione Oggi parleremo della prima stagione, ovviamente senza spoiler, di WandaVision Prima serie tv dell'universo Marvel Che ci ha fatto un pochettino penare, devo essere sincero Perché dopo un primo annuncio di distribuzione nel 2020 Ahimè, Causa Pandemia è stato spostato a gennaio 2021 Ovviamente anche prima serie, ovviamente anche prima tv per Kevin Faggy Ed inaugura la fantastica fase 4 dell'universo Marvel, dell'universo dell'MCU Unica stagione da ben nove puntate Serie tv sviluppata da Zach Schaffer con protagonisti Wanda Maximoff e Vision E anche protagonisti di Avengers Age of Ultron Che riescono a strapparsi una serie tv tutta fatta apposta per loro Ebbene sì, come avete potuto leggere dal titolo L'ho sottovalutata alla grande Ma andiamo piano piano Una serie che sinceramente non gli avrei dato tante speranze A partire dalle prime due puntate Che non lo so, non mi hanno fatto capire subito all'inizio di cosa stesse parlando questa serie tv Una serie strana, enigmatica Non solo dallo stile adottato Ma anche dalla tecnica con cui veniva raccontato ogni puntata Sono già sicuro fra di voi che ci saranno state tante persone Che già avranno Hanno capito tutto quello che è successo dalla prima puntata Sono veramente felice per voi Ma io sinceramente Non ci ho capito nulla Però poi dopo mi sono ricreduto alla grande Puntata dopo puntata Momento dopo momento Frase dopo frase Compresi gli spot pubblicitari che sono stati veramente una genialata Capisci piano piano che questa serie regala tante ma tante emozioni Principalmente ho sottovalutato Non la serie tv in generale Ma le prime puntate Più che altro perché mi aspettavo un qualcosa di diverso Un qualcosa dell'MCU che ci era stato presentato In maniera folgorante In maniera eccessiva Grossolana Come solo l'MCU ci poteva Come solo l'MCU ci ha abituato Invece no Una serie che è stata completamente spiazzante su questo punto di vista Una serie comica Una sitcom Uno stile che comunque è veramente diverso Rispetto al classico universo Come ho detto prima che ci è stato presentato Stili diversi Anni diversi Anche il motivo per cui viene presentato Ogni puntata un decennio diverso A partire dagli anni 50, 60, 70, 80 E veramente i tantissimi omaggi ai grandi classici delle serie tv degli ultimi anni Un'altra cosa che mi ha stupito di queste serie tv è il minutaggio Un minutaggio che comunque è breve Concentrata come serie tv Concentrata come puntata E non quelle per me noiose puntate di un'ora, due ore Dove fondamentalmente non si riesce a raccontare nulla Se ci pensate in molte serie tv Però in questo caso si cambia totalmente il punto di vista Perché in quei 25 minuti, 30 minuti di serie tv Comprese di spot Se la riguardate bene puntata dopo puntata La riuscite ad apprezzare per quello che è Ovvero una genialata di serie Sono sicuro però che questa mini serie Chiamiamola così, anche se poi in realtà lo è Sono sicuro che non piacerà a tutti Sono sicuro che comunque molti si annoieranno Perché si aspetteranno, come me, un prodotto diverso Ripeto, per come ci è stato presentato Però può essere anche un po' di bigottismo su questo punto di vista Però se comunque la riguardi bene L'apprezzi tantissimo E sottolineo, secondo me, sarà la prima e unica su questo genere Perché in tutto il 2021 ci saranno tante serie tv dell'MCO Come quella su Loki Come quella sul Soldato d'Inverno Su Captain Marvel Su Mrs. Marvel Su Nick Fury Su questo, su quello, su quell'altro Però questa, secondo me, sarà la prima e unica su questo genere E sarà imbattibile E sarà impossibile replicarla Un altro punto interrogativo che mi sono chiesto è Ma avrà una seconda stagione? Perché, ripeto, per come era stata presentata all'inizio La serie tv Ti aspettavi come se Come erano state presentate le puntate Ti metteva tanta carne al fuoco E ti aspettavi, vabbè, ma non riusciranno mai A raccontare tutto quello che hanno presentato in questa serie In un'unica stagione E in realtà poi ci sono riusciti alla grande Riuscendo a collegare tutti i punti Che sono state presentate nella prima, nella seconda, nella terza, nella quarta e nella quinta puntata Per poi un'escalation di emozioni Dalla sesta in poi Fino ad arrivare all'ultima Credetemi, in particolare l'ottava Ti riesce a fare capire Quanto bravi Siano stati gli scrittori Nel riuscire a concludere Come si deve Una serie tv E quindi, ragazzi, che dire? Spero che la recensione di WandaVision vi sia piaciuta Ovviamente vi metterò qua sotto il link in descrizione il trailer Ditemi se anche voi l'avete apprezzata o meno Ci vediamo alla prossima Iscrivetevi al canale E ciao ciao Iscrivetevi al canale 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 Iscrivetevi al canale